Antonello Venditti! Grazie per essere qui in questa sera così speciale per noi. Che cos'è? No, niente, è una cosetta. Ah, no, adesso ne parliamo subito. No, no, dopo, anche mai. No, no, come no, questa è... Oh, 40 anni dall'uscita dell'album Cuore. Guarda qua che cosa abbiamo. Domenica prossima tornerai all'Arena di Verona con l'anteprima, peraltro già sold out, del nuovo tour notte prima degli esami, 1984-2024, quarantesimo anniversario, ragazzi. Eh, sembra... Sembra ieri, ma... Sembra ieri. Ma è oggi. Porca miseria. Sembra ieri, ma è oggi è bello, eh? Eh, proprio, sembra ieri, ma è oggi è stupendo. Sembra ieri, ma è oggi. No, questo qui è perché il Ministero della Cultura dove hai presentato... Guarda, io ho fatto già un errore. Cioè? Che lo... Parliamone dopo. Vuoi parlare dopo? Sì, sai perché? Perché è una cosa... Vuoi cambiarla? Vuoi emendarla? Perché... No, perché è una cosa talmente importante che... Eh, che secondo me ha bisogno di una... Vabbè, allora distraiamoci prima. Perché il cantante... Sì? Ha da cantare. Che sei tu. Sarei io. Ah, il cantante ha da cantare. Il discorso è questo, no? Mi ha portato alla scrittura di questo... Però diciamolo, perché stiamo parlando di una cosa che nessuno... Eh, sì, io vorrei... La musica leggera... È una legge, è un progetto di legge. È un progetto di legge. Vorrei la musica leggera, definendo la musica popolare contemporanea, in Costituzione. Certo, protetta. Perché l'unica... La musica non è in Costituzione, quindi ha... Ognuno... Certo. E quindi dare dignità a De André come a Jolie, perché il fondamento di questa società, uno dei cementi più importanti della nostra società, è la musica. Ma la musica non ha... Non ha una legge, non ha niente. È affidata o alle multinazionali o a Sanremo. O Talent o a Sanremo. E tu hai scritto una vera e propria legge? Cioè, hai studiato tanto. Tu sei un avvocato, tu sei un laureato in legge... Sono un laureato in legge. Però lì c'è un cantautore, che è l'avvocato Pardo, che è stato cantautore... Dunque, il mio avvocato è stato prima cantautore. Sì. E quindi abbiamo scritto insieme... Ma scusa, ma il ministro... L'è presentata al ministro San Giuliano questa... Gliel'ho donata, diciamo. Non abbiamo approfondito le... Però questa è una cosa... Qui non l'ha ancora letta? Non lo so. Sinceramente... Non lo so, non mi fai domande indiscrete. No, no, no. Però... No, no. Però... Però c'è un'altissima adesione. Cioè, questa è una cosa di tutti. Di buon senso, anche tra l'altro. Di buon senso di tutti. Anche per metterla al riparo da una cosa che ci farà tutti comodo, ma che per il momento è un nemico. È l'intelligenza artificiale. Cioè... Spiegami, spiegami. Entrando in Costituzione, tu la difendi, quindi hai degli argeni molto maggiori, dell'esposizione singola, no? L'intelligenza artificiale può entrare nelle nostre vite devastandole, cambiandole. Non so. Sicuramente in meglio, no? Ah, sì. La scienza medica, figurati sulla vicina delle applicazioni. Il rispetto, diciamo, alle professioni o ai talenti, appunto, artistici, è un problema, perché tu ti puoi appropriare di tutto, no? Quindi, mettendola in Costituzione, tu la ripari, la tieni al riparo. Antonello ha detto che tiene più a questa legge che a qualsiasi altra cosa. Eh sì, perché le canzoni le ho già scritte, ma le leggi ancora devono essere scritte. Infatti, quello è. Senti, l'album Cuore in 1984 fu, diciamo, un disco intimo, diciamo, molto più intimo, per esempio, rispetto al Sottosegno dei Pesci, no? Apparentemente. Beh, insomma, molto intimo comunque. Perché, ricordiamoci che... Conteneva ci vorrebbe un amico. Esatto. Quindi, io non è che faccio i 40 anni di notte prima di esami che diventava la canzone iconica. È un inno, poi lo cantiamo tutti, eh? E poi è un compleanno proprio. Certo, certo. Ma lì ci sono canzoni interessantissime, perché io tre canzoni di questo album non le ho mai cantate dal vivo, che sono L'Ottimista. Vi ricordate L'Ottimista? Nasce in piedi. L'Ottimista. Eccola. L'altra Mai Nessun video mai. Sì. E poi io sostengo di non aver fatto, neanche non è la cocaina, ma lì ci abbiamo l'altro pezzo. Quindi, per me è anche. Rifatto oggi, con i suoni di oggi, ma anche dal vivo, è devastante, è veramente una bella esperienza. Non vediamo allora, poi diamo anche tutte le date, alcune delle date del genere. Tanto lo sanno. Tanto si sa, sì. Però, la cosa fondamentale, è che c'è una potenza di suono, un'attualità incredibile. Eh, lo credo. Ce l'abbiamo quella foto, che volevo far vedere Antonello, dove sei tu con Lucio Dalla, che era l'amico di Ci vorrebbe un amico? Esatto. Cioè, Lucio Dalla mi ha fatto scrivere Ci vorrebbe un amico. Mi ha trovato a casa a Roma. Io appena sono arrivato a Roma, dopo il mio esilio milanese, che Dio vi benedica, perché sono stato accolto in maniera meravigliosa. E quando sono tornato a Roma, trovato a casa, messo un pianoforte, e ho scritto immediatamente Ci vorrebbe un amico, notte prima degli esami, e grazie Roma. Guarda, questa foto ci sei tu, con De Gregori, Baglioni e Dalla, tutti insieme. Sì, poi... E altri, poi, che non riesco a distinguere. Sì. Poi ci chiediamo tutti chi ha fatto la foto. Eh, certo. Sì. Non lo sapete. Dove eravate qua? Qui eravamo a casa mia, diciamo, in campagna. Ok. Noi stavamo... Ero il primo che mi ero sposato di tutta questa surma. E quindi dovevi ospitare, certo. Per forza. Poi ero l'unico che aveva una casa attrezzata personale. Quindi c'era il pianoforte, era una cosa... E poi giocavamo. Ma è la stessa casa dove adesso guardi le partite? No. No. Perché lui le partite da Roma le guarda a casa con molti amici, fra cui obbligatorio Verdone. Sì, lì c'è il giardinetto. Eh, il giardinetto. Dopo quando ho capito che era diventata una loggia massonica... Sì, perché ognuno veniva e fa affari che, è chiaro... Invece lui ha un po' di scaramanzia. Era trasversale. Fra le quali le tue scaramanzia è che la partita si guardava anche col freddo e la pioggia in giardino. Certo. Come allo stadio. Stavi allo stadio, quindi dovevi dimostrare... Certo. Quindi se pioveva prendevamo la pioggia. Ma anche De Gregori veniva o viene alle partite? Con De Gregori è un rapporto diverso. Cioè dai, roviniamo questo rapporto. No, no. No, scherzo. No, dico, no. Ci abbiamo messo 40 anni. 40 anni. No, no, Francesco... Tournée meravigliosa. Lo sa. Meravigliosa. Indicibili. Questo gran finale meraviglioso. No, con Francesco... Francesco abbiamo visto una partita storica, ma questo fa parte degli aneddoti, che fu un derby molto interessante dove io avevo comprato queste due televisioni che costavano 21 milioni e 500 vabbè, mica poco. No, tantissimo. Infatti adesso le televisioni bellissime ritrovi a mille euro. Anche di me. Allora invece c'era questo tubo, non mi ricordo che c'era un ca... Va beh, insomma. Allora, ne compro due perché una giù e l'altra diciamo in camera a letto. Vado a accendere quella del salone e c'era Roma Lazio, quella famosa dove Roma vinse cinque, sta roba rara. Si fa finta di non ricordarsi. succedono più e quindi vado a accendere non c'è niente. Quindi siamo andati su, fortunatamente si è accesa e abbiamo visto sul letto mio questo magnifico derby. Tra parentesi, adesso, mentre io sto facendo questa bellissima intervista, la Roma sta giocando. Puoi sapere? Ma che... Dimmi. No, vorrei sapere. Io avrei aspettato la fine del primo tempo. 0-0. Eh, lo so. Però, già. No, non è vero. Ma non si capisce di parlare, fanno dei segni. 2-0. 2-0 l'Atalanta. 2-0 l'Atalanta. Allora, vedi? Hai capito? La scaromanzia funziona. Deve stare in giardino nelle delle partite. No, no, no. Tu hai fatto una cosa che un romanista non farebbe mai. Senti. Ma tu devi diventare sandoriano, così ti abitui. No. Tu hai mandato Grazie Roma prima. Grazie Roma. Se tu la metti prima, porta Iella. Ma se tu l'hai scritta. Ma no, ma io l'ho scritta per dopo. Ma portala più sfighe a quello che l'ha scritta di quello che la fa sentire. Allora, c'è un rito. Eh. All'inizio c'è Roma, Roma. Sì. Roma, Roma, Roma. Quello è l'inno della Roma. Sì, e vabbè. Dopo c'è la canzone di ringraziamento, quando vince, metti Grazie Roma. Allora, cercate Roma, Roma. Mettiamola che magari espiamo, proviamo a cercare. Voi cercatela intanto. No, è impossibile. Tanto lo sapevo. Globalmente porti Iella. Eh, io. Tu l'hai scritta. Eh, sono io che la mando. No, non sei tu. No, non sei tu. A me porti una Iella tremenda. Vorrei andare via, guarda. Fa pazzesco. Pensa che a me tu porti fortuna. Ma io a te ti porto fortuna. Noi abbiamo un incontro al Colosseo. Sì, sapete che non importa niente, ma è brutto parlare di sé. Ma la prima volta che ho conosciuto Antonello, lui stava girando il video. Di Grazie Roma. Di Grazie Roma. Al Colosseo. Io ero andato a visitare il Colosseo perché ero andato a fare il provino per la Rai. Prima ha detto siccome non verrò mai più a Roma, poi è successo, 40 anni dopo ma è successo. Sono andato a vedere il Colosseo e c'era lui e per me fu indimenticato. Faccevo il video. E ho detto questo mi porterà fortuna. A te l'immoltangueriello. Pure a te. Non è andata male questi 40 anni. Ma io stavo bene già prima. Senti, tra l'altro del concerto con De Gregorio avete pubblicato un album che contiene i 17 Bridal Tour, il concerto live. e il backstage del vostro tour è diventato anche una miniserie in sei puntate che va in streaming su Discovery Plus. Ma ormai è passato. Ma lo fai, facciamo vedere un pezzacino. Ormai De Gregorio sta con Keiko Zalone. Io non posso, cioè non c'entro più niente, sono stato espulso la sua vita di nuovo. Ma lo dici con amarezza? Lo dico con amarezza. Con invidia. No, con amarezza. Guarda, noi siamo dei fratelli, quindi ci permettiamo tutto con noi. La cosa interessante di questo filmato è che abbiamo fatto poi, da vivo, non l'abbiamo fatto né ci vorrebbe un amico così. ci sono delle canzoni che non ci sono. Sentite, prima di andare avanti, per pietà, mandate Roma a Roma. No, 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 è ancora bello. E come? L'hai chiesto tu? No, no, ma scusa. Ti prego. Ma l'hai chiesto tu? Abbiate pietà. Ma l'hai chiesto tu? Ti fa prima. Eh, ho capito, ma prima. Come dice Giannacci, se lo dicevi prima... Ma io, tanto lo sapevo che non dovevo venire. io, guarda, sono rimasto... Lo sai che questa è la... Come si fa si sbaglia, cioè... Eh, ma sei... Ma che sono? L'hai detto tu? No, sei drammatico. L'hai detto tu? Hai detto un minuto fa? Guarda, il beato di Andrè che era genuano. Guarda, eccola qua. Tu sei espulso. Eccola qua. La perfezione implica anche un'imperfezione, perché deve avere tutto. Sì, perché è la somma degli errori che fa la perfezione. E quindi il fatto che fosse genuano va perdonato. di Andrè. Lui? Certo. Mannaggia te, va. Ascolta... Meno male che sei alla nove. Al nove, maschile. Anche tu sei al nove. Alla? Discovery Plan. No, il nove. Il nove. E che è? Maestro? Chi è? Adesso però qui c'è Laura Calafoli, la direttrice di tutto. Adesso le parli. Ma per me la nove è femmina, è donna e è una rete televisiva. Perché sei nato l'8 marzo. Il nove che è, secondo te? Il numero nove, il canale nove, come dicono i giovani. Mamma mia. Mamma mia. Vabbè, allora. Va bene, allora, venerdì 10 maggio è uscito, è uscito anche il nuovo singolo di Una Parola, che è un brano di Antonello che anticipa la riedizione che è prevista per il 14 giugno dello storico Album Cuore che è questo che ho messo. È bello, sei un imbonitore meraviglioso. No, sto leggendo, guarda. Sì, se no, ho capito. Potevamo mandare un ciclostile. Quando è che la canti la prima volta? A Verona. A Verona, all'Arena di Verona, il 19 maggio di Una Parola. Come, dove nasce questa canzone? Ecco, e questa è una buona romana. Guarda, è strana, lo potrebbe mettere in difficoltà, cioè, che vedete? No, l'avevo scritta per la Cortellesi, poi per l'avanzata. Mi capitava sbagliato. Allora, no, c'è una storia che è quella che mi lega anche ad altre cover che ho fatto, cioè, Alta Marea, e io sentivo Alta Marea, cioè, Don't Dream It's Over dei Crowded House, la sentivo alla radio e dico, ma guarda che figo, che bella. Arrivavo a un certo punto che non andava come volevo io. E qui ha detto, la faccio come voglio. E ho detto, e io mi incazzavo. Ma perché non fa papà papà? Alla fine l'ho fatta. Questa canzone, invece, parte da un altro, è una delle più belle canzoni del mondo. Cioè, questa canzone. Se lo dici tu, ci credo. Sì, è del mondo. Che mi è entrata dentro proprio in maniera niente. E quindi, a un certo punto ci sono entrato talmente dentro che è scattato il processo Alta Marea. l'ho sentita mia più delle mie. Quindi ho riscritto il testo e ho fatto un arrangiamento che una canzone più vendittiana di questa non c'è. Eccolo qua. E poi c'è una cosa fondamentale, cioè che per la prima volta in vita mia farò pubblicamente Notte Prima degli Esami il 18 giugno che è la notte Prima degli Esami. lì Questa adesso tanto c'è il pianoforte l'avete visto adesso Antonello prima del 18 la fa qui da noi. Se non voglio fare l'effetto Grazie Roma perché sennò Ah no aspetta diciamo tutto quello che non si deve fare da qui alla fine. No adesso Si può cantare Notte Prima degli Esami? Si può fare. Loro la possono cantare? Assolutamente Perché ormai ci sono alcune canzoni che non hanno più autore appartengono alla gente. Si anche i maturandi la possono cantare. Assolutamente No non ci sono scaramanzie fammi sapere No lì c'è la scaramanzia che la devi cantare La devi cantare quindi tutti i maturandi devono cantarla. Ma non solo perché gli esami di maturità c'è l'invidia da esame per cui anche i ragazzini che fanno gli esami ma anche chi va a farsi gli esami dell'urina canta Notte Prima degli Esami a una certa età sono più importanti che è un problema sono molto importanti Mi fate vedere le date mi fate vedere le date dei concerti non li leggo tutti perché sono tantissimi però insomma abbiamo detto Verona il 19 maggio poi Roma 18-19 21 giugno alle terme di Caracalla sarà una meraviglia Quello bellissimo Eh sì E poi luglio Verona pure ha il suo bel perché No ma ragazzi vabbè ma tu sei è che sold out tu non si riesce andiamo per andiamo per gradi però però è bello ma poi so veramente più passa il tempo più la musica è amica cioè il senso della musica è lo stare insieme quindi mentre io sono nato tra i contrasti io sono nato tra gli sputi non era così semplice fare musica allora quegli anni certo quindi c'era uno schieramento ben preciso e oggi io mi sento veramente pacificato cioè io penso che anche nei temi più importanti chi fa la pace per primo vince hai ragione hai assolutamente chi fa la pace per primo cioè chi ha hai ragione perché è un virus cioè la pace è come la guerra la guerra si porta porta altre guerra ma la pace porterà altre pazze hai ragione e adesso no adesso volevo farti prima di ascoltare la prima degli esami a me è una canzone che mi piace moltissimo così come mi piace moltissimo Giulio Cesare tu dici che me ne importa a me però se me c'è un legame perché c'è una così ho sempre pensato così di te da che ti conosco cioè che in realtà ci sia una tua voglia in cui mi riconosco molto di di rimanere al liceo ma io sono cioè di continuare studente fondamentalmente sono studente è un modo per tenersi stretti 18 anni 20 anni insomma quello che è sì ma anche perché era il luogo della mia vita c'era mia madre che era professoressa di Latina Greve quindi e poi è il momento della vita in cui si può costruire il futuro dove tutto può ancora succedere diceva infatti un poeta diceva che la la gioventù è quella che ti sembra un dramma una quando la viva ti sembra un sogno dopo quando non c'è più grazie a tutti grazie a tutti